brava ragazzi io volevo presentarvi i miei compagni di viaggio di fulgore di vita di malefatte che hanno suonato con me stasera e quindi al basso elettrico Alessio Iori che fortissimo alla batteria viaggio greco viaggio prendi sempre più applausi di tutti, saranno i capelli credo alle tastiere Corrado Mendicino chitarre elettriche Massimo Garitano no, allora per il capello credo grazie grazie al nostro grandissimo fonico amico di scorribande di noi madrigalisti moderni Vladimir Costabile grazie mille grazie a questo magnifico centro commerciale che ci ha ospitato in questa bellissima e magnifica location ma grazie a voi grazie Roma e grazie a tutti quelli che hanno fatto dei chilometri per venire qui per venire qui ad ascoltarci questa sera da Napoli Perugia Milano fatevi un applauso siete grandi e vi voglio salutare con questa canzone che ho scritto nel mille